Anche quest'anno ci vediamo a Vio Vintage, l'edizione di Vicenza Oro dedicata alla orologeria vintage. Sarà al padiglione 8.1 in concomitanza con la fira della gioielleria, ma in questo caso dal 19 al 22 gennaio 2024. Vi dovete registrare online e troverete una serie di orologi e di commercianti in fiera che verranno a esporre dei pezzi che vi potranno e vi sapranno raccontare in modo sapiente. Oltre a questo incontrerete tutta una serie di amici appassionati, come vedete questo braccio era tutto completamente di miei amici e beh direi che ne vale la pena. Potrete scoprire gli orologi, potrete anche acquistarli, troverete delle cose molto inconsuete come quella che state vedendo in questo momento che è rarissima. E troverete dei grandi nomi, Stefano Mazzariol, Maurizio De Angelis, un sacco di persone che sono sicuro vi sapranno raccontare tutto in modo sapiente. Oltre a una serie di attività come vedete qua, talk, masterclass, insomma registratevi online e ci vediamo lì.